Signor Presidente della Regione Toscana, la ringrazio della sua presenza tra noi e con ringrazio e polgo benvenuto a tutte le autorità civili, Sua Eccellenza il Prefetto, il Presidente della Provincia, il Questore, il Presidente del Tribunale. Il Sindaco di Pisa oggi è impegnato, presiede una conferenza della Lega delle Autonomie, mi ha chiamato, mi ha detto parole molto gentili, ha portato traverso me il saluto alla scuola e a tutti quanti noi oggi. La scuola è rappresentata l'assessore alla cultura e la ringrazio per la sua presenza qui tra noi. Un saluto alle autorità militari, il Generale Comandante della Legione Carabinieri Toscana, il Colonello Comandante Provinciale dei Carabinieri, abbiamo la rappresentanza del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza. Ringrazio il Pastore della Chiesa Evangelica Valdese che è presente tra noi. Un saluto naturalmente alle autorità accademiche. In primo luogo il Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, il Rettore dell'Università di Pisa, il Direttore dell'Istituto degli Alti Studi, IMT. Tra di voi ci sono molti amici della scuola normale, speciali amici, li ringrazio per la loro amicizia, per la loro vicinanza. Un saluto ai nostri allievi in questa stanza e nell'altra stanza da cui ci vedono in videoconferenza. Agli ex allievi, abbiamo qui il Presidente della Sessione Normalisti, al personale docente e non docente della scuola. Un saluto naturalmente a tutte le nostre ospiti e a tutti i nostri ospiti. Alla fine di questa lunga sequenza un saluto veramente speciale a loro, ai nostri neodiplomati, alle loro famiglie, alle loro amici che sono presenti. Oggi, 18 ottobre 2011, ricorre il 201esimo anniversario della firma del decreto con il quale Napoleone I fondò la scuola normale superiore. In questa data noi celebriamo l'apertura del nostro anno accademico. Oggi, e questa è una ricorrenza assai meno solenne, è anche passato un anno da quando la comunità della scuola normale mi ha eletto alla carica di direttore. E quindi è il momento giusto per un primo consuntivo, il momento giusto per analizzare i primi passi che insieme abbiamo percorso all'avvio del terzo secolo di vita della scuola normale. È stato un anno intenso di lavoro e di programmazione sul futuro della scuola. Un anno di rinnovamento e di ringiovanimento sullo sfondo di una fase davvero difficile per il Paese e il suo sistema formativo. Consentitemi alla fine di quest'anno di ringraziare prima di tutto il vice direttore della scuola, il professor Claudio Ciociola, per il suo equilibrio e il suo costante impegno, per il suo insuperabile senso dell'umorismo e la sua amicizia. Un anno fa, e alcuni di voi credo lo ricordano ancora, aveva annunciato l'avvio di una fase in cui la normale, conscia al tempo stesso della sua dimensione, della sua piccola dimensione, ma della sua responsabilità, una grande responsabilità invece, avrebbe ragionato, scelto e rese note le sue specifiche scelte culturali e scientifiche. Aveva annunciato che ci saremmo evoluti verso un modello di funzionamento diverso, un modello basato su un più piccolo corpo docente di ruolo e su un più ampio ricorso a tutti gli strumenti oggi disponibili per poter offrire una proposta didattica e di ricerca coerente, attuale, ai nostri allievi. Aveva annunciato uno sforzo per l'internazionalizzazione della scuola. Avevo sottolineato nel confermare il ruolo nazionale, anzi internazionale della scuola, l'obiettivo di una rinnovata attenzione alle istituzioni locali, cittadine, provinciali e regionali. Ci siamo mossi in coerenza con queste linee. Se guardiamo l'evoluzione del numero dei docenti, di ruolo e non, e le modalità con cui copriamo la nostra offerta didattica, come l'abbiamo coperta nel tempo, vedete che quello che vi annunciavo è successo effettivamente. Il dato in blu rappresenta i corsi coperti da docenti di ruolo, il dato in rosso rappresenta i corsi coperti da docenti in qualche modo incaricati con le nuove modalità di disposizione che abbiamo. La scelta di flessibilità che abbiamo annunciato è visibile, è concreta. Attenzione però, non intendiamo far scendere ulteriormente il valore della colonna blu, del dato blu. Anzi, abbiamo già programmato alcune azioni che renderemo esecutive nei prossimi mesi, adesso che il quadro normativo definito dalla legge 240 comincia a diventare operativo con l'approvazione di vari decreti attuativi. Saranno scelte attente, i numeri saranno piccoli e queste scelte sono cruciali perché la scuola normale deve restare piccola, ma al tempo stesso deve attentamente differenziarsi da un piccolo Ateneo. A questa evoluzione noi resteremo fedeli di questo modello, intendo. Perché registriamo che questo tipo di scelte consolida il successo della nostra istituzione. Questo è confermato da vari indicatori. E cito uno, uno solo. Cito il fatto che la scuola normale è ancora una volta tra i primi dieci Atenei al mondo, secondo la classifica dell'Università di Shanghai. Naturalmente quella normalizzata per taglia, la PCP, come viene chiamata tecnicamente, perché la scuola normale è un Ateneo, naturalmente di piccole dimensioni assolute. Io non credo ciecamente a questa o a nessuna classifica in generale, però voglio con voi analizzare in che compagnia siamo, quali sono le dieci università selezionate da questo sistema. Le vedete su questa mappa, ce ne sono quattro in Europa, che sono l'Ecole, nostra parente di Parigi, l'ETH di Zurigo, la scuola normale e l'Università di Cambridge. Negli Stati Uniti sono le altre sei, Harvard, MIT, Princeton, Caltech, Stanford e l'Università di California. È una buona compagnia. Questa è la compagnia con la quale ci vogliamo trovare. A proposito di valutazione, guardando al nostro Paese, come sapete servia in questi giorni la procedura di valutazione dell'ANVUR, l'Agenzia Nazionale per la Valutazione dell'Istituto della Ricerca. Particolarmente nel campo delle scienze umane è urgente una riflessione attenta, alla quale tutti noi credo dobbiamo dare un contributo. Vi annuncio qui che con il Presidente dell'ANVUR, il Professor Stefano Fantoni, stiamo organizzando un evento qui alla scuola normale, che sarà destinato a tutti gli Atenei della Toscana, a cui siete invitati e che spero sarà un momento importante in questo senso, per definire meglio, più puntualmente, i parametri su cui deve lavorare l'ANVUR, su cui dobbiamo lavorare noi come collettività. La scuola è piccola, dicevo, ma può essere competitiva. Se nei settori dove sceglie di essere presente, la scuola sa creare le condizioni di studi e di ricerca ottimali. Questo passa in primo luogo attraverso la scelta delle persone, e questo significa la scelta dei docenti e la scelta degli allievi, che fanno parte della nostra comunità, ma spesso questo è reso possibile anche d'accordi con partner che siano funzionali al nostro disegno scientifico e culturale. Questi accordi mobilitano risorse e amplificano l'impatto della scuola. Vi voglio far vedere un grafico, un altro disegno schematico, dove sono indicate alcune di queste istituzioni. In alcuni settori in particolare sono strumenti di amplificazione assolutamente indispensabili. Tra questi ve ne voglio menzionare uno in particolare. so che non si legge, sono troppo piccole le scritte, ma vedete come attraverso alcune delle sue strutture la scuola sa amplificare la sua presenza attraverso collegamenti esterni. Ve ne voglio menzionare uno in particolare, che ho posizionato in cima, collegato al nostro centro di ricerche matematiche. Questo parte è un parte nuovo, che è il CNRS francese. Con questo abbiamo recentemente firmato una convenzione che costituisce, presso il centro di ricerche matematiche Ennio De Giorgi, un'unità mista internazionale, l'unica UMI, come si dice, in Italia. Un ulteriore riconoscimento della visibilità internazionale del centro, fondato dalla scuola, assieme all'Università di Pisa e alla scuola Sant'Anna. Mi complimenti al direttore del centro, al professor Mariano Giacquinta, che naturalmente è qui tra noi. La scuola da questo risultato viene rafforzata nella sua determinazione a sostenere il centro, anche se, devo dirlo, qualche volta in questa determinazione ci siamo sentiti piuttosto soli. La rete di rapporti internazionali della scuola è molto vasta e offre quindi interessanti opportunità di studio e di ricerca ai nostri allievi. In questa mappa del mondo vedete tutte le istituzioni con le quali noi abbiamo accordi di scambio e che quindi rappresentano un'opportunità di contatti internazionali per i nostri allievi. L'offerta è ricca, ma questo è solo un aspetto del concetto di internazionalizzazione che a noi preme. Per la scuola questo rimane un obiettivo importante e noi stiamo lavorando e dobbiamo lavorare ancora più efficacemente per crescere l'attrattività della scuola. Devo dire, non ci possiamo nascondere che scontiamo come istituzione la bassa attrattività del sistema paese all'interno del quale noi ci troviamo. Molto comunque possiamo fare noi in prima persona. In primo luogo in termini di comunicazione. Un passo importante in questo senso potrà essere il nuovo sito della scuola normale, di cui vi mostro ora la prima pagina, e per il quale desidero ringraziare pubblicamente Paola Mancini, Andrea Pantani, Michele Fiaschi e Andrea Freccioni per il lavoro non banale che sta dietro a questo risultato. E vi chiedo un applauso per questo. Ora è compito di tutta la comunità della scuola mantenere questo sito aggiornato per assicurarne l'efficacia. Sempre riguardo l'attrattività della scuola, desidero mostrarvi un altro dato, lo vedete qui, che è il numero delle domande ai nostri corsi, concorsi di ammissione. I numeri sono sempre elevatissimi, considerando che noi vogliamo ammettere 50-55 persone nel nostro corso ordinario. Parliamo di una possibilità ogni 20-25 domande che sono presentate alla scuola. È un segnale importante ed è una garanzia per noi che potremmo sempre continuare a scegliere ragazzi di talento. C'è un altro indicatore che vi voglio menzionare, che secondo me è interessante, che si riferisce al nostro corso di orientamento. Per il nostro corso di orientamento raggiungiamo ormai le 3.000 domande di ammissione all'anno. Un altro indicatore dell'interesse e del valore di questa iniziativa. Forse perfino il nostro Ministero se ne sta accorgendo che questa è un'azione di servizio che la scuola normale offre a ragazzi di talento per il loro orientamento, forse il Ministero avrà dei segni tangibili per questa attenzione. Se passiamo dall'orientamento all'altro estremo del percorso formativo della scuola, quindi al corso di perfezionamento, vi invito a leggere il regolamento per il dottorato recentemente diffuso dal Ministero. L'esperienza quasi secolare del nostro corso di perfezionamento, che come sapete è nato nel 1927, è stata tenuta ben presente, finalmente ben presente. Speriamo ora che le scelte del Ministero e dell'ANVUR siano coerenti con questo spirito in fase di applicazione di questo regolamento. Se così sarà, credo che ciò potrà avere effetti positivi strutturali sul sistema anche oltre la formazione dottorale. Sempre riguardo al nostro invece corso di perfezionamento, con il nuovo statuto viene anche questo modificato. Vi è una migliore definizione della sua struttura didattica e degli obiettivi scientifici. E se parliamo di comunicazione, porterà finalmente a un titolo comprensibile e spendibile a livello internazionale, rilascieremo il titolo di filosofie doctor. La normale, pur con le sue peculiarità e le sue unicità, è parte integrante del panorama accademico italiano e può essere luogo di sperimentazione di modelli formativi e organizzativi, come nell'esempio appena visto del corso di perfezionamento. Una riflessione su questo ruolo e più in generale sul ruolo dell'Università in questa fase critica è l'oggetto dell'intervento del Presidente della Conferenza dei Rettori dell'Università Italiana, il Professor Marco Mancini, che ringrazio di aver accettato il nostro invito e di dotarci così a riaffermare il ruolo della normale come componente del mondo universitario. Gli do ora la parola, ma nel farlo voglio complimentarmi con lui per l'efficacissima azione sul governo che ha portato in tempi difficilissimi all'inserimento nella legge di stabilità di risorse specifiche che ci consentono di guardare con meno preoccupazione al prossimo anno finanziario. Marco. Un saluto cordiale a te e a tutta la comunità accademica della scuola normale, un saluto a tutte le autorità presenti e ovviamente un saluto molto affettuoso a quelli che sono gli allievi e soprattutto ai diplomati che oggi riceveranno un segnale importante per quella che è la promozione dei loro studi. Io ringrazio ovviamente per questo invito che mi è stato rivolto dal Rettore Beltram in un'occasione così importante, in una cerimonia così, come dire, davvero prestigiosa per la normale ma anche per l'intero sistema universitario italiano. Certo, 201 anni sono veramente tanti e io davvero devo dire che guardo con grande ammirazione a quella che è la storia di questa istituzione. Ho sentito parole importanti da parte del Rettore Beltram che peraltro condivido in toto e che sono un po' lo spunto anche delle brevi riflessioni che vi vorrei proporre. Le parole importanti sono quelle che dicono che la normale è anche un laboratorio, è anche un'esperienza di cui noi ci dobbiamo in qualche modo avvalere per quello che riguarda l'intero sistema universitario. A cominciare direi proprio, come lui stesso segnalava, da quelli che sono i corsi di perfezionamento e la loro evidente analogia con quelle che sono le nuove sfide che ci aspetteranno per il funzionamento dei dottorati, ad esempio. Ma non solo quello. Vero nella normale è un laboratorio interessante per quello che riguarda, ad esempio, il fruttuoso congiungersi da un canto dell'alta formazione e dall'altro, come avete ascoltato anche dalle parole, mi pare legittimamente orgogliose del Rettore, della ricerca. Che in questa istituzione ha una evidente punta d'eccellenza, anzi due punte di eccellenza, visto come è strutturata la normale stessa. Del resto le cifre stesse che amabilmente il Rettore mi ha comunicato nel passato, pochi giorni fa, per quello che riguarda il conseguimento di risultati assai positivi per quello che concerne i progetti, ad esempio, di ricerca, sia a livello europeo sia a livello nazionale, dicono con chiarezza che in questa istituzione la ricerca è un'asse portante fondamentale. Anche in questo senso credo che la normale debba essere per noi un paradigma sul quale commisurare anche le azioni dell'intero sistema universitario nel prossimo futuro. Dicevo che questa è un'occasione per una breve riflessione. Io credo che il Rettore voleva soprattutto che io vi disegnassi in brevi battute quella che è un po' la situazione attuale del sistema universitario e quelle che sono anche, a mio giudizio naturalmente, le prospettive a breve e a medio termine. Fatta comunque una precisazione, che mi pare doverosa, molto soggettiva, mi rendo conto che in questa occasione forse non ci starebbe nemmeno bene, però permettetemi un piccolo sfogo, certo che un momento peggiore per fare il presidente della CRUI non mi poteva capitare. Questo lo dico proprio con uno sfogo personale. Grazie. 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 Comunque, fatta questa cosa che mi libera in qualche modo il cuore e soprattutto il subconscio, posso affrontare, diciamo, con maggiore serenità i temi rapidamente che volevo in qualche modo sporvi. Ma, dunque, intanto, come sapete, tradizionalmente, lo dico sempre in qualunque circostanza pubblica, è noto che i rettori si lamentano sempre per i soldi. È un fatto ormai tradizionalmente noto. Devo dire che quest'anno si lamentano un po' tutti, per fortuna, cioè malcomune e mezzo caudio. Si lamentano per i soldi, ma non naturalmente perché, per chissà quale avidità, ma semplicemente perché, come sapete, il nostro sistema universitario sta attraversando una crisi, lo ha ricordato proprio all'inizio del suo intervento il rettore Beltram, particolarmente delicata. La possiamo chiamare eufemisticamente transizione, ma in realtà non è una transizione, è una crisi. È una crisi dovuta al fatto che, come sapete, dal 2010 in poi, per l'effetto prodotto da un combinato di leggi del Varate nel 2008, il sistema universitario comincia a subire una serie di pesanti tagli. Non mi voglio annoiare con delle cifre, ma un paio di numeri ve li voglio dire, perché, come dire, in qualche modo purtroppo costituiscono un mantra della nostra lamentela come sistema universitario. Noi abbiamo subito, sino a oggi, sino alla data odierna è il caso di dire, un taglio medio sul finanziamento ordinario, cioè sui trasferimenti dallo Stato, pari al 7,48%. Naturalmente chi più chi meno, ma la linea, diciamo, mediana è del 7,48%. Avevamo, ringrazio il Rettore Beltran per le parole così molto amichevoli e anche, mi permetto di dire, affettuose, avevamo una prospettiva sul 2012 particolarmente drammatica, che io non ho, dal primo giorno in sostanza in cui sono stato eletto Presidente della Crui, non ho mai cessato di sottolineare. Questa prospettiva drammatica è quella che vede, vedeva un taglio sul 2012, solo sul 2012 rispetto all'anno precedente, cioè l'anno in corso, pari al 5,5%. Inutile dirvi che una prospettiva del genere significava una prospettiva drammatica, in alcuni casi addirittura apocalittica. Debo dire, e qui è un doveroso riconoscimento anche all'azione del Ministro Gelmini, ma non solo del Ministro Gelmini, ma anche di altre autorità istituzionali, a cominciare, lo devo dire con grande franchezza, dal sostegno morale che noi abbiamo avuto nel nostro incontro del 20 luglio con il Presidente della Repubblica, con il Capo dello Stato, grazie a questo combinato di interventi nel Consiglio dei Ministri del 2014 l'ultimo scorso, fortunatamente in sede di legge di stabilità, diciamo così un po' controtendenza, visto naturalmente il clima nel quale il Paese si trova in questo momento, il sistema universitario è stato rifinanziato per una somma di poco inferiore, complessivamente ai 500 milioni di euro, di cui 300 destinati effettivamente al fondo di finanziamento ordinario. Oggettivamente è una buona notizia, di cui certo non possiamo che essere soddisfatti. Una buona notizia che è coniugata anche, lo voglio ricordare, con il rifinanziamento del diritto allo studio per 150 milioni di euro. Siccome il diritto allo studio nel 2012 era arrivato a Lumicino, stavamo intorno ai 25 milioni di euro, capite bene che questo rifinanziamento, pur non riportandoci per carità alle vette del 2007 e 2008, allora si parlava di 250 milioni di euro, tuttavia è già, come dire, un momento di despiro importante e un segnale soprattutto nei confronti, ovviamente, dell'utenza studentesca. Io non posso che riscontrare, dicevo con grande favore, questo tipo di intervento, però siccome dobbiamo guardare anche a una prospettiva, dicevo, a breve, ma soprattutto a medio termine, vorrei segnalarvi che a fronte di questo intervento che è stato appena operato, naturalmente ci auguriamo sia vero confermato di qui alle prossime settimane, per cui, come si diceva una volta, la parola d'ordine è vigilare, vigilare fino all'ultimo giorno, che in genere in questi casi, ahimè, è sempre tra il 30 e il 31 dicembre. La vita dei lettori sotto Natale, devo dirvi, è veramente, come dire, grama, perché siamo sempre lì a guardare tutti i comunicati stampa e a cercare di capire se succede qualche cosa di negativo nell'iter finale, appunto, in questo caso della ex legge finanziaria, oggi legge di stabilità. Dicevo di guardare anche in una prospettiva a breve e medio termine, che vorrei riassumermi in brevi battute. Io credo che la cosa importante, al di là di quelli che sono gli interventi fatti, appunto, in extremis, ahimè, in alcuni casi quasi in articolo mortis, vero, del sistema delle università italiane, sarebbe opportuno, una volta per tutte, guardare con una certa serenità a una programmazione pluriennale. E questa è la prima richiesta chiara, esplicita, che io vorrei avanzare in questa sede. Dobbiamo avere garanzie pluriennali, magari pure, forse, senza incrementi del finanziamento ordinario, ma con finanziamenti certi sull'arco pluriennale, perché se no il concetto di programmazione è contraddetto in termini. Cioè non possiamo programmare nulla perché non sappiamo mai, di anno in anno, che cosa accade sul finanziamento. E questo credo che sia un dato importante, oggettivo, tra l'altro è un elemento col quale noi possiamo, in qualche modo, anche garantire, per quel poco che si può fare, quel ricambio importante nelle generazioni della ricerca su cui si fonda la prospettiva e il futuro di una università. Avete ascoltato dalle parole del Rettore Beltrano quanto sia importante pensare, appunto, a sviluppare soprattutto la base della ricerca, la base dal punto di vista, se volete, anagrafico, i giovani, molti dei quali probabilmente sono qui tra i diplomati della scuola. Cioè persone alle quali noi dobbiamo dare una speranza per il prossimo futuro e questa speranza la possiamo costruire solamente se abbiamo una certezza per quello che riguarda l'aspetto di programmazione, diciamo, finanziaria anche dell'università. Altrimenti ogni anno siamo lì che cerchiamo in extremis, appunto, di capire che fine facciamo. La seconda cosa che vorrei segnalare su questo settore, per così dire, dei finanziamenti è quello relativo a nuovi sistemi di ripartizione. Io credo che anche qui l'esperienza della normale sia importante. Da quello che ho compreso dal discorso che ha fatto poco fa il Rettore, nella normale, l'aspetto, diciamo, caratterizzato è proprio la sua specificità. La normale ha una specificità. Tutte le università, in realtà, magari per classi, hanno delle proprie specificità. Ecco, io credo che questa della specificità debba essere la nuova parola d'ordine per una ripartizione, come dire, correttamente disomogenea, se posso usare questa contraddizione adiecto, delle risorse nel prossimo futuro. Cioè, un nuovo sistema di ripartizione che tenga conto non di una sfida all'ultimo euro infernale su un parametro uguale per tutte e ottanta le università del Regno, ma, piuttosto, quella che è una sana competizione fra classi di università che hanno fra loro indici di omogeneità. Questo credo che sia una risposta importante alle tante attese che il sistema universitario ha per lo sviluppo prossimo futuro. Naturalmente noi abbiamo un'occasione per discutere di tutto questo che è la delega del Governo sull'articolo 5 della legge 240, cioè il nuovo sistema, appunto, di finanziamento dell'università. Vi dico fin da adesso che la Crui si farà soggetto, questa volta, proponente di un nuovo modello da discutere con il Ministero in prospettiva, appunto, abbastanza a breve termine, per far sì che questo nuovo modello sia varato quanto prima, se è possibile, appunto, con il consenso di quella che potremmo chiamare la base universitaria. La terza cosa su cui volevo richiamare la vostra attenzione è quella relativa ai finanziamenti infrastrutturali. Qui c'è un punto delicato che io vorrei rapidamente portare alla vostra attenzione. Di nuovo, l'esperienza della normale. La normale è una sede che ha coniugato, come dicevo poc'anzi, non solo la didattica in quanto alta formazione e la ricerca, ma anche la residenzialità. Cioè l'aspetto residenziale, certo, su numeri piccoli, naturalmente, è certamente un aspetto caratterizzante della vita, anche della socializzazione fra gli studenti, ovviamente, della normale. Allora, questo è un punto delicato che, secondo me, dovrebbe essere tenuto presente per il prossimo futuro, per l'intero sistema universitario, nelle dimensioni naturalmente corrette. Allora, permettetemi solo di snocciolare un paio di cifre. Le infrastrutture e distanziamenti sull'edilizia universitaria sono passati da 258 milioni di euro del 1999 a 6 milioni di euro nel 2009, 258, 6, a 0, 0, casella vuota, nel 2010, 2011 e 2012. Allora, io ritengo che sia a questo punto improcrastinabile un impegno da parte del governo per quello che riguarda, appunto, anche questa tipologia di finanziamenti, per consentire che la mobilità studentesca, che poi è il punto delicato, che vuol dire vivacità del sistema universitario, possa essere perseguita nelle diverse sedi grazie anche a una buona politica residenziale. La politica residenziale significa che non sia coperto solo, la cifra è questa, il 2,1 rispetto agli studenti iscritti come studenti che hanno una residenza in quanto media nazionale. È una cifra, come dire, ridicolmente bassa. Per cui è evidente che su questo occorre, vi sia un impegno. Io so, fra l'altro, ed è una buona notizia, che all'interno di un segmento del finanziamento di cui facevamo riferimento prima, varato dalla legge di stabilità, c'è un, qui sorrido per un motivo che capirete subito, c'è una parte, diciamo, di questo finanziamento che è stata singolarmente non etichettata, per così dire, nei comunicati stampa. Su cui, naturalmente, si accentrano immediatamente tutta la curiosità dei rettori, e non solo dei rettori. Che è qualcosa tipo finanziamento per lo sviluppo del sistema universitario, una cosa del genere, una etichetta molto misteriosa. Allora, io so che però all'interno di questo segmento esiste la volontà politica di uno stanziamento per il rifinanziamento, cosa che il Presidente della Regione conosce molto bene, della legge 338-2000. Cioè, la famosa legge che nel 2000 prevedeva cofinanziamenti tra il Ministero dell'Università, i finanziamenti regionali e le università, proprio, tra l'altro, per la residenzialità e per, diciamo, l'edilizia rivolta nei confronti, soprattutto, degli studenti. Questo è un primo segnale, io tale lo considero, se verrà, come dire, confermato questo stanziamento, su cui noi facciamo molto affidamento per risolvere, progressivamente, è chiaro, quei problemi strutturali a cui facevo, o infrastrutturali, per dir meglio, a cui facevo riferimento poc'anzi. Questo, per quello che riguarda, diciamo, le questioni di ordine, diciamo, finanziario. Mi avvio al secondo e ultimo, diciamo, paragrafo di questo mio breve intervento, e cioè quello, per così dire, normativo, se volete, statutario. Sapete che l'università, compresa questa università, seppure con uno status diverso rispetto alle altre, a molte altre università, ha avviato un processo di riforma statutaria, in applicazione, ovviamente, dell'articolo 2 della legge 240, cioè della legge Germini. Dei numeri. Allora, alla CRUI risulta che su 55 progetti di statuto che ci sono pervenuti, per conoscenza, da parte delle diverse università, 36 sono in attesa di approvazione, 36 non sono stati in realtà ancora inviati al Ministero, 7 sono stati approvati, di cui 4, se non batterà, sono già sulla gazzetta ufficiale. Allora, è chiaro che noi siamo di fronte a una tappa a valle della quale dovremmo ragionare di nuovo sull'autonomia universitaria. Non sembra un paradosso quello che sto dicendo. Io lo so, e condivido, quelle che sono state numerose perplessità nei confronti dell'assetto della legge 240 per la parte, per così dire, di governance. Troppo minuta, troppo vincolante, troppo analitica. Sì, è vero, d'accordo. Però è anche vero che una volta che noi abbiamo realizzato il processo statutario, a questo punto siamo a valle del processo statutario. E su questo noi dobbiamo riflettere e riaprire, per così dire, i cantieri dell'autonomia. Il che vuol dire una cosa precisa. Basta leggi architettoniche. Non vorrei più discutere nei prossimi anni su grandi leggi di riforma dell'università, ma discutere, semmai, su semplificazioni delle norme attuali che vedano l'autonomia universitaria di nuovo come soggetto proponente all'interno del sistema. Naturalmente questo significa anche la collettoria. È evidente che ne è uno strumento, anche perché statutariamente è, come dire, lo strumento dell'autonomia universitaria. Un alleggerimento delle norme significa un alleggerimento progressivo e modulare che veda una sempre maggiore responsabilizzazione degli Atenei perché noi, credo, siamo tutti convinti che ormai il vero dialogo è tra l'autonomia universitaria e la valutazione dell'ANVUR. Per cui, come dire, lo dico con una formula un po' rozza se volete, bisogna fare in modo che le università siano sempre più libere per essere sempre meglio valutate. Questo è quello che io ritengo debba avvenire nel prossimo futuro. per cui, ancora una conseguenza, quello che noi dobbiamo aspettarci per il prossimo futuro è una ulteriore semplificazione delle norme che oggi vincolano le università in tanti aspetti che sono quelli della didattica, che sono quelli del recutamento anche, sia chiaro, perché una volta che noi siamo valutati, naturalmente valutati bene, questo è ovvio, in modo articolato, tutto ciò che ammonte di questo processo può essere tranquillamente semplificato, alleggerito o in alcuni casi addirittura annullato. Ebbene, concludo. Io non credo che tutto questo sia troppo, io credo che questo sia, consentitemi una frase arcaica, il minimo sindacale, cioè credo che questo sia quello che noi ci aspettiamo come amministratori dell'università perché sappiamo che le università hanno energie forti, lo hanno dimostrato nel corso di questi anni, ricordarvi, le università nonostante i tagli si collocano come ad esempio la scuola normale alle vette delle classifiche mondiali, per esempio per produttività dei propri ricercatori che mi sembra un elemento notevole, nonostante i problemi infrastrutturali le università italiane continuano a produrre ottima ricerca perché i ricercatori italiani sono bravi o quantomeno sono all'altezza della competizione internazionale, quindi le nostre università hanno tutte le energie per disegnare il futuro di questo paese. Vedete, io credo che permettetemi una prima citazione come d'uso nella retorica di questi eventi, chiudere con delle citazioni, io attingo alla filosofia contemporanea. La prima citazione è una bella frase di Schopenhauer il quale nel suo pamphlet sulla filosofia delle università, pamphlet durissimo peraltro, nei confronti dei professori universitari tra parentesi, però dice a un certo punto che noi abbiamo come dire una sorta di debito nei confronti cito della innocente gioventù che all'università piena di fanciullesca fiducia, guarda soprattutto loro, si reca a imparare, a credere, a onorare. Io credo che nei loro confronti noi abbiamo un impegno importante, un impegno a cui dobbiamo tener fede, dobbiamo dare loro un metodo, questo è lo scopo dell'università. Sempre un altro grande filosofo con cui poi concluderò questo mio intervento e cioè Nietzsche scrisse una volta che uno degli scopi del sapere è di essere come dire vigili, di vegliare esattamente questo dice in modo interessante che è un'espressione davvero che colpisce. Qual è questo metodo? Beh, questo metodo è quello appunto del saper dialogare, del saper discutere, del sapersi anche contraddire ed è proprio con una citazione di Nietzsche se me lo consentite che vorrei concludere questo mio breve intervento. La trago da un aforisma della Gaia Scienza. Lo cito. Ognuno sa oggi scrive Nietzsche che saper sopportare la contraddizione costituisce un elevato segno di cultura. Alcuni sanno perfino che l'uomo superiore desidera ed evoca contro se stesso la contraddizione per avere un accertamento circa la sua ingiustizia restata fino allora sconosciuta. Ma il saper contraddire la buona coscienza conseguita nell'ostilità contro il consueto, il tramandato, il consacrato, tutto ciò è più di queste due cose ed è propriamente l'aspetto grande, nuovo, sorprendente della nostra cultura. Il passo innanzi semmai un altro di uno spirito che sia giunto alla sua liberazione. Chissà questo si chiede Nietzsche. Ebbene, chissà questo. Io penso che nell'università si formino persone che sanno che cos'è questo, che cos'è questo passo innanzi, questo passo avanti. Ed è anche per questo che io formino i miei migliori auguri intanto ai diplomati della scuola normale, all'intera istituzione per questo importante come dire traguardo, questo importante anche se me lo consentite compleanno. Auguri. grazie al presidente Mancini per il suo intervento lucido e decisamente pieno di spunti che condividiamo credo spero tutti sicuramente li condivido io. Ha parlato di specificità e lo applicava in particolare a questa istituzione. E forse è più vero per questa istituzione che per altre per la sua dimensione. E quindi la scuola può avere impatto e può avere ruolo e la visibilità che merita solo in alcuni settori. Per questo la scelta del perimetro culturale come l'abbiamo finito della scuola una scelta che spetta sui docenti è una responsabilità seria di cui ognuno di noi deve essere ben conscio solo così la normale può realizzare la sua missione scegliere giovani di talento e mettere nelle condizioni di coltivare al meglio le proprie inclinazioni con proposte culturali e scientifiche ben precise attuali. E' stato un esercizio impegnativo per noi quello di esplicitare questo perimetro. il collegio accademico nella seduta di settembre ha approvato un testo che definisce quali sono le linee di sviluppo della scuola quali saranno le nostre proposte per i nostri allievi questo documento verrà ora sottoposto a valutazione esterna un passaggio importante per evitare l'autoreferenzialità alcune linee tradizionali saranno abbandonate alcune linee saranno rafforzate nuove linee saranno introdotte il presidente Mancini e lo ringrazio molto per questo ha sottolineato il ruolo della scuola nel e come parte del sistema formativo nazionale questo per noi è importante un concetto su quello abbiamo collettivamente lavorato e continuiamo a lavorare e continueremo a lavorare ma come vi dicevo durante quest'anno abbiamo molto lavorato anche per riportare la scuola sulla mappa della Toscana forti sono i rapporti con le realtà cittadine penso alla stretta collaborazione con il comune la fondazione bancaria la fondazione teatro per quanto riguarda le nostre attività culturali e per la valorizzazione e per la valorizzazione e la messa a sistema del patrimonio artistico della scuola ringrazio per questo il nostro sindaco e il presidente della fondazione bancaria Cosimo Bracci Torsi che è qui con noi lo stesso posso dire per i rapporti a livello della provincia e il rinnovato contributo che la normale sta offrendo e ancor più offrirà all'innovazione delle imprese locali e la stessa formazione molto deve allo stimolo e all'aiuto della provincia e ringrazio per questo il presidente Andrea Pieroni che oggi è con noi in provincia poi a San Miniato è una realtà vicina alla normale la fondazione Santa Chiara questa che vedete è una foto della sede principale di questa fondazione questa è un'iniziativa che la scuola desidera valorizzare e rafforzare attraverso una programmazione ambiziosa in ambito culturale e formativo ma solo se in pieno accordo e sintonia con San Miniato stessa è arrivato probabilmente anche lui trattenuto dal traffico il sindaco della città e lo ringrazio per essere qui con noi il sindaco di San Miniato la presenza sua oggi per noi è stimolo e rafforzamento della nostra determinazione a procedere su questa strada assieme a lui assieme alla città di San Miniato intenso poi il rapporto con la regione e con il governo generale regionale in primo luogo con il presidente Enrico Rossi ma anche con la vicepresidente Targetti gli assessori Marson Nencini Simoncini e molti dirigenti dell'amministrazione regionale mi fa molto piacere che alcuni di loro siano qui la normale quindi è di nuovo sulla mappa della Toscana partecipa ai suoi programmi dal suo contributo di idee e di persone e oggi è indispensabile fare il sistema l'amministrazione regionale sta mostrando la leadership richiesta assieme alla necessaria capacità di ascoltare ma di regione toscana e dei nostri rapporti parleremo un po' più in dettaglio tra poco ora vorrei parlarvi delle strutture della normale ieri con i nostri presidi Riccardo Barbieri e Daniele Menozzi e tutti i colleghi ho incontrato gli allievi ammessi al primo anno della scuola dovranno avere un po' di pazienza la scuola si sta rinnovando si sta rinnovando anche nelle sue strutture e questo creerà qualche temporaneo disagio in questo stesso palazzo ancora una volta grazie all'aiuto della fondazione Casa di Risparmio vedremo presto un'accelerazione dei lavori di ristrutturazione e restyling spero che qualche qualche cambiamento l'abbiate già notato la stessa piazza dei cavalieri come sapete è oggetto di un importante intervento questo rendering di come sarà la piazza alla conclusione dei lavori di cui vedete i segni visibilissimi qui davanti ci congratuliamo con l'amministrazione per questo lavoro ma la scuola è anche in altre sedi in città noi siamo qui qui è il complesso di due nostri collegi collegi Timpano e Acconci che sono in questo momento chiusi e ci scusiamo con i nostri allievi per questo ma sono chiusi perché sono oggetto di una drastica ristrutturazione già avviata dal direttore Settis grazie al confinanziamento del ministero siamo anche qui in piazza San Silvestro questo è il compendio di San Silvestro che è la sede della normale napoleonica come sapete una struttura molto bella la vedete qui dall'alto sulla quale stiamo agendo di concerto con risorse di fondazioni private il perché ve l'ha spiegato il rettore Mancini il finanziamento per l'edilizio universitario è stato consistentemente zero negli ultimi anni non avremmo potuto fare nulla di questo senza risorse private abbiamo restaurato questo primo tratto del palazzo con l'aiuto della fondazione Monte di Paschi questa sezione la stiamo per avviare con il sostegno determinante di banca intesa anche in questa struttura c'è stata vicina la fondazione locale con la restituzione della facciata al suo splendore settecentesco e vi faccio vedere una primizia questo è lo scalone monumentale che è stato appena restaurato di nuovo con il sostegno della fondazione che ci ha permesso di riportare la luce degli straordinari affreschi del tempesti una vera sorpresa è qualcosa che offriremo alla città come parte di un'architettura di valorizzazione del patrimonio culturale e artistico della città per renderla più attrattiva anche dal punto di vista turistico vorrei però parlarvi in particolare di una struttura che è vitale per la scuola e credo per la città e in questo modo introdurre l'intervento del presidente Rossi questa struttura è la biblioteca della scuola normale questa è attualmente collocata vicino a noi torniamo qui nei due edifici che vedete in queste immagini il palazzo del capitano e il palazzo della gherardesca due edifici che sono ormai insufficienti alle sue dimensioni e alla funzione che svolge oggi il presidente della regione toscana annuncerà un importante accordo che riguarda il palazzo della canonica che vi faccio vedere dove sta eccolo qui adiacente al palazzo del capitano un accordo che vede la condivisione anche della provincia di Pisa e qui va il nostro grazie in particolare al presidente Andrea Pieroni per la sua sensibilità in questo delicato passaggio non voglio rovinare l'annuncio del presidente Rossi ma volevo farvi vedere geograficamente dove stava posizionato il palazzo di cui so che vi parlerà e contiguo fisicamente come vi mostravo a uno dei due palazzi della biblioteca ha quindi il potenziale per uno sviluppo delle nostre collezioni e per una fruizione ideale di queste collezioni con questa piccola premessa vorrei dare la parola al presidente Enrico Rossi con il mio benvenuto e quello di tutti quanti noi buongiorno illustrissimo rettore presidente della crui signor prefetto docenti e allievi della scuola autorità signore e signori vi ringrazio per questo invito sono onoratissimo per l'opportunità che mi avete dato di portare questo saluto vorrei iniziare innanzitutto facendo gli auguri di buon compleanno alla scuola superiore normale che compie oggi 201 anni direi portati benissimo a giudicare dal prestigio dal ruolo che continua a svolgere nel panorama nazionale e internazionale poi rivolgo un saluto caloroso un apprezzamento sincero ai giovani che sono qui presenti che hanno completato il corso ordinario di studi complimenti vivissimi e auguri di buon futuro le brevi considerazioni che svolgo non vogliono assolutamente entrare nel merito delle decisioni che la scuola normale ha preso e che dove apprendere sono le riflessioni di un uomo di governo che guarda la scuola con attenzione partecipe consapevole della sua assoluta autonomia e del ruolo che svolge nella regione sul piano nazionale e internazionale sul ruolo di questa scuola non ci sono dubbi è stato detto anche dal rettore molto bene permettete anche a me di citarlo nelle valutazioni internazionali delle università questa scuola si colloca tra i primi dieci posti e quindi un'eccellenza assoluta nel mondo credo che da questo ne derivi anche un ruolo di indirizzo in qualche modo se mi è permesso di avanguardia nel sistema universitario nazionale e regionale e questo richiede sicuramente alla scuola normale di accettare le sfide nuove che sono state rammentate anche dal rettore di mettersi al passo con i tempi e di trovare nel suo passato piuttosto che un elemento di freno le ragioni di un nuovo slancio il ruolo decisivo che la scuola ha svolto nei due secoli dalla sua esistenza è noto a tutti e costituisce un motivo di prestigio per la Toscana che la scuola ospita qui sono state formate le classi dirigenti del paese preparando prima i professori delle scuole medie poi quelli delle università da qui permettete che lo ricordi sono usciti due presidenti della Repubblica Gronchi e Ciampi un presidente del Consiglio molti ministri e in senso generale questa scuola è sempre stata un punto di riferimento della vita culturale civile e politica del nostro paese oggi la situazione è mutata e anche il ruolo della scuola ha bisogno di proiettarsi io credo in un orizzonte diverso lo Stato nazionale è entrato in una fase di profonda trasformazione l'Europa è diventata e dovrà esserlo sempre di più il nostro orizzonte quotidiano di riferimento per le sfide che abbiamo presenti e il mondo è il terreno su cui si gioca la competizione del nostro paese del nostro sistema io credo che queste nuove sfide la scuola è in grado di affrontarle di affrontarle a partire dalla dimensione regionale in cui è situata la sua nascita che oggi viene richiamata e a me fa molto piacere dal rettore e partendo di qui proiettarsi nei mutamenti del paese nei mutamenti internazionali il paese ha avuto un cambiamento profondo di quella che si potrebbe chiamare la composizione demografica oggi ci sono molti giovani italiani nati da genitori non italiani che sono cittadini della Repubblica molti attendono di diventarlo e questo futuro sarà sempre più segnato da queste presenze l'Italia sta diventando un paese multiculturale nel quale sono presente molte tradizioni e anche diverse confessioni religiose la scuola per essere a passo con i tempi deve sapersi aprire anche a queste nuove realtà così come deve collegarsi con le frontiere più avanzate della ricerca internazionale anche e noi siamo disposti a fare fino in fondo la nostra parte aumentando l'attrattività di studenti e docenti un tema che ci interessa e su cui noi siamo in condizione di poter svolgere un ruolo di supporto rispetto alle decisioni che la scuola vorrà prendere insomma è da un'eccellenza come la scuola normale che può scaturire a determinate condizioni quella spinta propulsiva che oggi sentiamo mancare e che rischia di far allontanare il nostro paese e anche la nostra regione dalle economie più avanzate io penso che è necessario che l'Italia ritrovi il coraggio e la consapevolezza del grande valore rappresentato dalle scuole di alta formazione come appunto la normale ci sono segni positivi in questo senso ma forse si può fare di più perché questo può essere davvero condizione per lo sviluppo per accrescere innovazione e competitività della nostra economia ci sono segnali positivi ma veniamo da anni di tagli troppo profondi tagli che hanno colpito il nostro sistema universitario impervio è stato anche il percorso del rinnovamento delle architetture del sistema universitario a cui faceva riferimento il presidente della Cruy c'è stato come un dibattito che non ha avuto gli sbocchi necessari è vero che oggi noi siamo tra i paesi dell'Ox che meno spendono in rapporto al PIL in spesa pubblica informazione e ricerca siamo a livello della Spagna tutti gli altri paesi continuano a investire di più scarsità di risorse anni di incertezze io penso che hanno generato anche nel corpo sociale un'idea che l'istruzione abbia perso progressivamente valore a me sembra questa una delle sfide su cui impegnarci anche in una battaglia politica culturale c'è stato come una specie di circolo vizioso per cui a fronte di una certa confusione di prospettive di un progressivo disinvestimento sul fronte della didattica e delle infrastrutture il corpo sociale del paese si è come allontanato dal considerare la formazione la scuola l'istruzione valori essenziali per il futuro basta pensare alle difficoltà del corpo docente allo scarso riconoscimento anche della sua funzione sociale o basta pensare alle difficoltà degli studenti che si interrogano sul perché stare a scuola sull'importanza dei loro studi non voglio dilungarmi troppo mi ha colpito però vorrei chiedere di poterci fare riferimento una lettera che mi è stata inviata come presidente della giunta regionale da una ragazza laureata in psicologia che mi ha inviato per me questo annuncio l'annuncio recita così si ricerca una segretaria commerciale che abbia propensione sull'acquisizione e sulla gestione del cliente è richiesta la capacità del problem solving e la conoscenza minima del pacchetto office età massima 29 anni anche prima esperienza visto la possibilità di avere 15 giorni di formazione retribuita astenersi laureate e per di tempo io credo che su questo ci sia di che riflettere per tutti e penso che ancora più ci sia di che riflettere sul seguito di questa lettera sulle parole amare di questa giovane laureata e dice presidente ho una formazione troppo alta e quindi quando vado in giro in cerca di lavoro ho predisposto due curricula uno in cui ho messo tutto ciò che ho fatto e tutti i miei titoli di studio è un altro più mediocre ed essenziale che gioca a secondo delle necessità del momento non ha futuro non ha un gran futuro un paese in cui un giovane è costretto a comportarsi in questo modo noi abbiamo smarrito la promessa dei benefici futuri che scaturiscono dai processi formativi e bisogna questa promessa riconquistarla a cominciare dalla scelta di investire di più nella formazione e nello sviluppo la regione toscana ha sempre cercato di essere a sostegno del sistema universitario dando un contributo innanzitutto alla governance congiunta mi pare lo stiamo dando con rispetto con senso di attenzione rispetto per l'autonomia io credo che il motore di questo rapporto non devono essere i problemi finanziari delle nostre università che ci sono e che noi siamo disponibili a prendere sul serio e per quanto possibile a dare una mano un aiuto ma penso che al centro di questo rapporto tra il sistema delle università e la regione ci sia soprattutto il contributo che le istituzioni universitarie che hanno sede in Toscana possono dare a partire ovviamente dall'eccellenza della scuola normale il contributo che possono offrire alla nostra società nella ricerca nel mondo produttivo nella formazione del capitano umano riteniamo e insisteremo su questo sempre con rispetto che è opportuno che le università toscane che sia giunto il momento in cui le università toscane si spingano più in avanti nel fare sistema diventare non soltanto una somma di singole istituzioni ma qualcosa di più in modo da sostenere meglio a me pare il confronto con i sistemi universitari internazionali ciò spinge i nostri tenei a fare massa critica mi pare che ci si sta incamminando positivamente in questa direzione la regione c'è e può dare se richiesto un utile contributo di stimolo e di sostegno a questo processo allo stesso tempo io credo che c'è una specificità toscana per la presenza di scuole di eccellenza a partire dalla scuola normale a cui noi dobbiamo guardare con molta attenzione a cui noi dobbiamo dare come ho già detto tutto il supporto possibile il mondo universitario della ricerca a mio parere potrà svolgere un ruolo chiave per accompagnare la toscana verso un nuovo sentiero di sviluppo noi pensiamo ad un sentiero di sviluppo che si basi sulla competizione alta non ci sarà sviluppo in questa parte di mondo comprimendo i diritti del mondo del lavoro potrà esserci se scienza se produzione si intersecano se collaborano se sapremo mettere un di più di creatività di ricerca all'interno dei nostri prodotti se sapremo innovarli e se sapremo migliorarne la qualità perché siano più competitivi e forse se sapremo anche inventare prodotti nuovi utili per l'uomo e per il futuro su questo fronte noi siamo molto impegnati abbiamo un'attenzione forte con tutto il sistema delle istituzioni la provincia i comuni e ringrazio l'illustre elettore per avere richiamato questo sforzo voglio dire che è una nostra scelta precisa in tempi in cui i tagli ci colpiscono anche noi diciamo non è un buon periodo per avere ruoli istituzionali neppure per chi ha ruoli di governo nelle istituzioni regionali così come nelle istituzioni universitarie sono tagli pesantissimi però vogliamo proseguire anche per l'anno prossimo mantenendo i nostri finanziamenti se possibile aumentandoli sia sul versante del diritto allo studio e sia sul versante del supporto alla formazione e alla ricerca noi vogliamo con questo dare un contributo al miglioramento del sistema universitario e della ricerca nella nostra regione nello stesso tempo vorremmo a partire dalle esigenze del governo della Toscana trovare nel sistema dell'università e dell'alta formazione i necessari riferimenti di competenze di analisi di proposte e anche di risposte ai problemi della società offrendo il territorio come luogo esso stesso di formazione di verifica e anche di accrescimento del sapere io credo che la Tid del territorio può entrare a buon diritto se lo faremo in modo corretto come un momento importante di verifica di confronto e di accrescimento del sapere nella nostra regione anche da questo punto di vista la scuola normale svolge già una realtà fondamentale per la capacità che ha sempre avuto di intrecciare la sua missione universale con quella di un rapporto con i problemi del territorio e della società toscana tuttavia sarebbe un errore se volessimo subordinare ad altri fini il sapere io non la penso così mi viene naturale dire in questo modo parafrasando Amartya Sen non si può dire che il sapere si può dire che il sapere è della stessa natura della libertà riesce ad essere il più potente mezzo per lo sviluppo delle persone delle imprese e dei territori solo se è assunto non come strumento dello sviluppo ma come il fine dello sviluppo stesso io penso che questi valori debbano essere richiamati questi riferimenti ideali questo collegamento tra la dimensione del sapere e la dimensione della libertà il sapere come fine ultimo insieme all'altro principio fondamentale quello dell'eguaglianza nell'accesso al sapere un principio che a me pare informa la pratica gestione della vostra scuola e che ha permesso in tanti casi di superare nell'accesso agli studi gli ostacoli derivanti dalle condizioni sociali ed economiche lo recita a mio parere in modo ammirevole e inequivocabile l'articolo 34 della Costituzione quando afferma che i capaci e i meritevoli anche se privi di mezzo di mezzi hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi per me la scuola normale è la dimostrazione che questi grandi ideali sapere come fine e come libertà eguaglianza nell'accesso al sapere possono essere praticati concretamente con serietà e rigore e possono produrre risultati straordinari e di altissimo livello di cui essere orgogliosi come italiani in un momento in cui a me pare sono troppe le ragioni della nostra umiliazione per questo vi ringrazio Scuola Normale di Pisa per l'esempio che voi ci fornite auguri e buon lavoro grazie al presidente Enrico Rossi per le sue parole importanti lasci a me allora il compito di spiegare perché ti ringraziamo in particolare anche per un aspetto operativo oltre che per la guida diversa che è saputo dare all'amministrazione regionale vi mostravo un edificio il palazzo della canonica per una scelta precisa del presidente e grazie alla determinazione del suo staff e alcuni passaggi di leggi regionali non vi sto a dire le complicazioni ma insomma il palazzo che vedete in giallo che è il palazzo che sta qui di fronte quindi verrà dato in concessione alla scuola normale per 50 anni tecnicamente si chiama dietro pagamento di un canone ricognitorio parola che ho appreso recentemente ma che in italiano si traduce in simbolico o forse trascurabile un segno molto importante di attenzione e uno strumento particolarmente importante nel contesto di difficoltà come avete sentito su interventi strutturali per mancanza di risorse questa opportunità ci permetterà di rilanciare la nostra biblioteca e rilanciare la funzione non soltanto per la scuola ma per la città e per gli studiosi in generale che gravitano intorno a Pisa grazie anche di questo presidente inizia dunque oggi l'anno accademico 2011 2012 e sono felice di aprirlo con le mie congratulazioni al neoeletto presidente della classe di scienze Luigi Ambrosio e il mio ringraziamento al preside Riccheri che termina il suo mandato oggi però voglio partire soprattutto con un augurio di buon lavoro non soltanto ai presidi ma anche ai colleghi agli allievi al personale tecnico-amministrativo come sapete ora inizia una seconda cerimonia che è la consegna dei diplomi agli allievi che hanno completato il severo percorso normalistico sullo schermo iniziano a scorrere le loro foto i titoli della loro tesi di laurea devo aspettare però qualche minuto per congratularmi con loro perché desidero riaffermare alcuni concetti in particolare un concetto che forse mi avete già sentito ripetere in altre sedi l'anno scorso ad esempio mi rivolsi al presidente napolitano e gli chiesi il paese utilizza al meglio il potenziale straordinario rappresentato dai normalisti utilizza al meglio l'investimento di risorse e intelligenze che è la normale oggi da cittadino allargo questa domanda e includo un'intera generazione di giovani da cittadino non mi lascio condizionare dall'azione di un manipolo di violenti e dichiaro la mia indignazione da direttore non posso nascondere la mia preoccupazione particolare per i neonormalisti l'incapacità di progettare forse di concepire un vero sviluppo che affligge il nostro paese mi sconcerta il nostro è un paese in crisi perpetua che non sa capire che la vera manovra per lo sviluppo di cui tanto si parla si fa qui con la formazione con la cultura con la ricerca con le intelligenze di questo e di altro ho parlato con i nostri diplomati con alcuni di loro in questi giorni e loro mi hanno consegnato anche un documento che descrive la loro esperienza in normale le loro preoccupazioni e danno dei consigli preziosi alla scuola vi ringrazio ne faremo tesoro vi assicuro che di questo si parlerà nei nostri organi la vostra voce sarà riportata i vostri suggerimenti saranno giustamente apprezzati e valorizzati nelle nostre azioni future in questo trovo un altro segnale del vostro attaccamento all'istituzione e la vostra gratitudine a questa istituzione ma dopo aver espresso i miei dubbi le mie preoccupazioni era necessario esprimere anche soddisfazione soddisfazione per il lavoro che voi avete svolto e con voi noi abbiamo svolto qui alla scuola è il momento che auguri a voi la piena realizzazione delle vostre inclinazioni e delle vostre potenzialità sono davvero grato per la vostra presenza qui so che alcuni di voi hanno fatto viaggi molto lunghi penso nove fusiorari siano il record dei presenti si vede anche dall'occhio un po' di alcuni di voi anche questo sforzo anche questa voglia di esserci è un altro segno di affetto per la scuola e di questo io vi sono personalmente personalmente grato sapete cosa succede ora è diventata una una tradizione anche se recente ma le tradizioni devono cominciare in questo caso sono cominciate l'anno scorso quindi è previsto che ora i nostri presidi Riccardo Barbieri e Daniele Menozzi si uniscano si uniscono a me qui ora vi alzate in piedi qui verranno fatte le foto che verranno viste per tutto l'anno quindi mi raccomando ok? alzatevi in piedi vogliamo col vostro diploma a voi da tutti noi sotto una pioggia di flash immagino le nostre congratulazioni e i nostri migliori auguri grazie è tradizione della normale celebrare anche in un altro modo il nostro inizio di anno accademico con un convegno che in questo in quest'anno è stato organizzato dal professor Massimo Mugnai che ringrazio per questo suo lavoro e chiedere a lui di introdurre la lezione che vogliamo offrire a tutti quanti voi che apre questo convegno che come sapete continuerà poi nel pomeriggio Massimo dunque l'idea di organizzare questa giornata di studio verte sul tema del libero arbitrio e l'idea di organizzare questa giornata ha avuto un'origine conviviale nel senso che quando è finito in conclusione della prima una delle giornate dell'orientamento a Colle di Valdelsa credo che sia stata l'ultima volta dell'orientamento a Colle di Valdelsa all'ora di pranzo conclusa la sessione del mattino si sviluppò un'accessa discussione in margine alla lezione tenuta dal professor Pietro Pietrini una discussione che vise coinvolta oltre allo stesso Pietrini il professor Mauro Giacca della Sissa di Trieste che era presente anche lui con una relazione il collega Giacquinta che è direttore del Centro Giordi della Scuola me stesso e Armando Torno noto ed editorialista del Corriere della Sera fu il professor Giacca a suggerire che io mi dessi da fare per organizzare una giornata di studi proprio relativamente al problema del libero arbitrio io accettai di sì di sì naturalmente penso che i presenti pensarono subito bene non se ne fa nulla e invece poi sono riuscito a organizzarlo nel senso che la proposta poi l'ho fatta presente al direttore al professor Beltram e la reazione positiva del direttore è stata sostanzialmente la causa prima come si sarebbe espresso un filosofo medievale che poi ha consentito l'organizzazione del convegno e quindi prima di tutto a Fabio Beltram che rivolgo un grazie sincero e ringrazio quindi anche tutti i presenti e i relatori che hanno accettato di partecipare a questo piccolo convegno e anche agli impiegati che si sono dati da fare che avevano contribuito a organizzarlo in particolare Lisa Guidi e Andrea Pantani e due parole prima di dare inizio alla relazione e a presentare i relatori sulla scelta del tema si tratta intanto di un tema complicato che pone problemi già riguardo alla sua origine nel senso che non è del tutto chiaro per esempio se gli antichi prima della diffusione del cristianesimo avessero una nozione chiara di quello che noi chiamiamo solitamente libero arbitrio naturalmente gli antichi gresci sapevano bene che la vita di ciascun uomo deve affrontare continuamente delle scelte ma è probabile che pensassero queste scelte in un contesto che non ci autorizza ad attribuire loro la nozione di libero arbitrio una nozione chiara ce l'hanno invece ce l'avevano invece i medievali questo risulta abbastanza chiara e non so se non è presente ma insomma nella locandina che pubblicizza il convegno che è una locandina che è ritratta da internet però raffigura una figurina credo dell'inizio del novecento dei dadi Liebig Liebig in italiano in cui si vedono due signori che stanno discutendo accanto a un asino che sembra molto perplesso davanti a due secchi di contenuti che contengono del cibo è il famoso dilemma dell'asino di Buridano un filosofo del quattordicesimo secolo passato in proverbio non si sa se lo schema l'idea del paradosso dell'asino di Buridano è veramente di Buridano comunque viene attribuito a lui ed è un esempio interessante perché è un paradosso in questo senso che veniva usato da di solito contro coloro che ritenevano che nelle scelte umane fosse la razionalità a decidere il povero asino si trova davanti a due porzioni di cibo perfettamente equidistanti perfettamente identiche non c'è niente che lo porta a discriminare dal punto di vista razionale una differenza e quindi muore di sete o di fame dipende secondo e questo era un argomento contro coloro che ritenevano che a scegliere fosse una scelta puramente razionale nella locandina tra l'altro mi ha fatto notare il mio collaboratore i due secchi contengono cibi diversi quindi la cosa è piuttosto più raffinata ancora l'asino ha due scelte diverse se bere e mangiare e quindi in qualche modo è equidistante rispetto ai due impulsi che però qualitativamente sono diversi con buona approssimazione si può definire il libero arbitrio come la capacità da parte di un agente individuale di scegliere e mettere in pratica consapevolmente una determinata azione senza subire costrizioni di alcun genere il problema del libero arbitrio coinvolge quindi molti aspetti della nostra vita a rilevanza giuridica in quanto per esempio è importante sapere con quale grado di consapevolezza e libertà una persona abbia compiuto certi atti contrari alla legge se le deve essere combinata una pena a rilevanza per la religione soprattutto nell'ambito della tradizione cristiana in quanto coinvolge la questione della salvezza cioè uno per essere salvato deve essere meritevole di essere salvato e quindi deve aver fatto atti buoni con consapevolezza e libera scelta per esempio è superfluo ricordare che nel secolo XVI proprio sul tema della libertà del volere si è accese una grossissima disputa Lutero scrive questo testo sul servo arbitrio quindi diciamo è un testo centrale della disputa religiosa che si solleva intorno al protestantesimo in generale quello del libero arbitrio è un argomento che ha forti implicazioni etiche dal momento che sembra coinvolgere la nozione di responsabilità individuale ricadute riguardo alla natura della razionalità e della scelta razionale nella tradizione filosofica i difensori del libero arbitrio si contrappongono di solito ai fautori del cosiddetto determinismo cioè persone che ritengono che qualsiasi scelta umana non possa sottrarsi al ferro e onesso delle cause che appunto determinano le scelte delle persone quindi come si può vedere in questo caso per esempio emerge un altro concetto problematico che è il concetto di causa in che senso per esempio impulsi impulsi fisici o impulsi di qualsiasi tipo sono causa delle nostre azioni con rinescenti sviluppi delle cosiddette neuroscienti la questione del libero arbitrio ha riproposto il tema del rapporto tra mente e corpo per esempio e le nuove tecniche di esplorazione del cervello la TAC eccetera hanno contribuito a ravvivare un dibattito che dura da secoli e che però ha acquisito adesso una nuova dimensione e per quindi quando si è trattato di pensare a come organizzare questo incontro una volta scelto il tema ho pensato di coinvolgere filosofi e scienziati in filosofi introdurrà il primo relatore il professor Mario De Caro che è docente presso l'università di Roma 3 che è l'attuale presidente della società italiana di filosofia analitica la SIFA che ha scritto anche libri sul libero arbitrio la professoressa Carla Bagnoli che è docente presso l'università di Modena ex allieva di un importante filosofo contemporaneo Robert Nozick a Stanford che è stato a lungo docente presso l'università di Milwaukee negli Stati Uniti e che appunto adesso insegna filosofia teoretica a Modena scienziati il professor Pietro Pietrini che è docente presso il dipartimento di patologia sperimentale e biotecnologie mediche presso l'università di Pisa che è un noto studioso di meccanismi del cervello che ultimamente è stato al centro di un caso molto interessante anche citato da Nature riguardo a un problema di responsabilità giuridica di una persona e poi l'unica straniera cioè non italiana la professoressa Dina Roskis che ha questa duplice veste è filosofo e scienziato nel senso che ha ottenuto un dottorato di filosofia presso l'MIT e un dottorato in neuroscienze conseguito presso la University of California a San Diego questi sono i protagonisti delle conferenze nell'ordine che sarà prima il professor De Caro poi la professoressa Roskis quindi Pietro Pietrini e quindi Carla Bagnoli che concludo con una citazione anch'io sullo stile del non l'avevamo coordinato ma con con un filopolo è citato per fare una citazione di un filosofo un filosofo italiano che di solito non è diciamo non è stato molto considerato io ritengo però sia stato probabilmente il più importante filosofo italiano del dopoguerra Giulio Preti di cui ricorre tra l'altro proprio quest'anno il centenario della nascita e scrive di fronte al filosofo di oggi lo scienziato e non solo il matematico o il naturalista ma anche lo storico o il filologo appare una persona seria è saldamente inserito in una tradizione univoca e la può modificare con metodi determinati e controlli categorici potrà discutere con i suoi colleghi ma alla fine avrà ragione o torto parla solo agli specialisti della sua disciplina ma in fin dei conti parla perlomeno a tutti questi specialisti il filosofo dice di parlare a tutto il genere umano ma in pratica non riesce a parlare neppure al suo compagno di corso o al suo collega di facoltà l'intenzione mia con l'organizzazione quindi ripeto con l'aiuto anche del direttore l'intenzione mia personale con l'organizzazione di questo piccolo convegno è quella di difendere un nozione un modo di fare e studiare filosofia molto vicino a quello che era auspicato da Preti che in qualche modo cerca il più possibile di non allontanarsi e di tener conto di quel che avviene anche nelle scienze grazie professor Mario De Caro allora tocca a lui l'introduzione di questo giornale ringrazio professor Mugnai ringrazio tutti naturalmente sono onorato ogni volta che vengo alla normale in particolare oggi per un'occasione così importante sono anche ammirato dal fatto che contrariamente a ciò che avviene nella città in cui vivo cioè Roma qui non solo si comincia puntuali ma si comincia addirittura con mezz'ora d'anticipo quindi io sono arrivato che il professor Mugnai aveva già cominciato la sua introduzione e non vorrei dire cose che vanno contro quello che ha detto lui speriamo di no in più mi ha dato un compito che è veramente abbastanza intimidante ossia l'idea che dovrei dimostrare che la filosofia non è necessariamente noiosa questo vedremo dunque il libero arbitrio immaginiamo una situazione di questo tipo immaginiamo di trovarci in un processo in corte d'assise in cui come sapete in Italia c'è la giuria popolare e di far parte della giuria immaginiamo che sia arrivato il momento finale in cui i giurati devono prendere la decisione finale per la colpevolezza o l'innocenza dell'imputato noi essendo parte della giuria ognuno di noi ripensa a tutto il processo alle arringhe alle deposizioni dei testimoni alle dichiarazioni degli imputati generale a tutto quello che abbiamo vissuto durante questo questo processo alla fine votiamo alla fine esprimiamo la nostra decisione con un'azione cioè votare ecco se c'è un momento in cui noi pensiamo che la facoltà del libero arbitrio si esercita è in una situazione di questo tipo noi pensiamo di esprimere veramente quello che vogliamo con il voto ma perché è una situazione in cui qual è la condizione per cui pensiamo che in questo caso stiamo esercitando il nostro libero arbitrio beh perché si danno due condizioni che non sempre si danno ovviamente quando agiamo la prima è che di fronte a noi si aprono due alternative votare per l'innocenza e votare per la colpevolezza non basta però questa condizione ci vuole qualche altra cosa ci vuole che la decisione è presa realmente da noi consapevolmente razionalmente non per esempio non ci sia imposta come era nei famosi i processi di Beria i processi stalinisti in cui la giuria poi poteva votare solo per l'innocenza per la colpevolezza non può neanche accadere che si tiri la monetina per decidere che cosa si voterà quella non sarebbe espressione del libero arbitrio noi vogliamo noi pensiamo fortemente che esercitiamo il libero arbitrio in questa scelta e nell'azione che ne consegue di votare perché in qualche modo razionalmente controlliamo il corso d'azioni che si genererà siamo noi a decidere quale tra i due futuri possibili aperti di fronte a noi si attualizzerà bene questo capita in occasioni come appunto i processi ma capita in altri casi importanti quando uno si sposa oppure quando sceglie quale facoltà iscriversi ma capita anche in situazioni molto più quotidiane al ristorante per esempio noi immaginiamo che nella maggior parte dei casi siamo liberi di scegliere e esercitiamo il libero arbitrio e tuttavia le cose probabilmente non stanno così se se un famoso scrittore neanche un filosofo un famoso scrittore che adesso vi darò la citazione chi la indovina il professor Mugnai offrirà un pranzo alle repubbliche marinare ecco quindi questo è uno scrittore che riporta questa frase sul libero arbitrio lo dico prima in inglese perché è inglese e poi traduco cioè la libertà e la necessità cercando di elaborare teorie su questi temi così tante testi intellettifini testi fini si sono ritorte e fracassate per dire che è un problema assolutamente insolubile e poco prima David Hume oh non ho detto chi era nessuno indovina il professor Mugnai ha risparmiato un pranzo era Tristan Shandy di Jonathan Swift quindi è un autore che è fortemente influenzato da Locke e anche da Hume e infatti pochi anni prima David Hume aveva scritto che la questione del libero arbitrio è il più controverso problema della filosofia e della scienza Hume con questa citazione non solo ci dice della difficoltà del problema è il più difficile di tutti i problemi filosofici ma ci dice anche che riguarda anche la scienza e questo è probabilmente perché siamo qui a discuterne oggi perché è un problema fortemente interdisciplinare come ha già accennato il professor Mugnai è un problema di cui non si sono occupati soltanto i filosofi se ne sono occupati molti scienziati anche Einstein tanto per fare un solo esempio se ne ha avuto da dire o laplace ed è ma se ne sono occupati ovviamente i teologi se ne sono occupati molti scrittori appunto da per esempio Dostoevsky e se ne sono occupati anche molti artisti per esempio in cinema autori come Kubrick con Arancia Meccanica è fondamentalmente un film su questo tema o Minority Report di Spielberg per venire anni più recenti ora ho detto che è un problema complessissimo e quindi non sarò qui a proporvi soluzioni perché qualcuno ha scritto che su questo tema ci sono tante soluzioni quanti sono coloro i quali le presentano non c'è accordo non c'è non c'è una soluzione definitiva e forse forse sarà difficile trovarla però ci sono credo ci sono argomenti razionali per dire che alcune cose le sappiamo e che alcune cose che invece si dicono spesse sono sbagliate quindi nella mia relazione presenterò i sette vizi capitali nella discussione sul libero arbitrio cioè i sette errori sette almeno sette errori fondamentali che si fanno quando se ne discute e non li fanno soltanto le persone non filosofie li fanno anche i filosofi talora questi errori dirò penso che già illuminando in parte il problema capendo cosa non dovremmo dire un progresso cognitivo si possa avere il primo dei sette errori capitali è l'idea che il problema del libero arbitrio è certamente molto difficile ma almeno è facile da definire la definizione di solito funziona così ho detto prima che e poi dico perché è un errore pensare che sia facile da definire comunque di solito si dice questo ho detto prima che noi pensiamo di essere liberi quando votiamo nel nostro processo perché si aprono di fronte a noi scelte possibili e perché pensiamo di essere noi a controllare quale di queste scelte si attualizzerà bene notate l'idea che in qualche modo il futuro sia aperto questo sembra essenziale all'intuizione pre-filosofica per cui noi siamo liberi perché possiamo votare nell'un modo o nell'altro e questa idea collide immediatamente con l'idea del determinismo che è presente nella scienza da tempo certamente c'era già nell'antichità con gli stoici per esempio c'è stato con Newton e c'è ancora con la teoria della relatività l'idea che tutti gli eventi sono necessitati da eventi precedenti e dalle leggi di natura quindi l'idea è che in qualche modo come scrisse il grande filosofo William James secondo il determinismo il futuro è già completamente scrive James contenuto nei lombi del passato nel senso ancora James che l'universo è un blocco d'acciaio il tempo è un blocco d'acciaio è già tutto completamente determinato se è così in che senso si può parlare di diversi corsi d'azione quindi quella intuizione già sembra vacillare fortemente io sono libero perché ho diverse azioni in verità secondo questa questa visione è completamente determinato cosa voterò non sono veramente libero di prendere un corso d'azione che non è già compreso nella storia dell'universo che è già determinata già scritta come bene disse laplace bene questo è quindi il liberarbitrio sembra collidere con l'idea del determinismo qualcuno i più sagaci tra i presenti diranno beh vabbè in fondo non ci dobbiamo tanto preoccupare sappiamo bene che a livello subatomico le leggi della meccanica quantistica sono indeterministiche ovvero il determinismo quando si va a livello subatomico non è vero non è vero che tutti gli eventi sono determinati dal passato dallo stato del passato dallo stato dell'universo nel passato e dalle leggi di natura quindi potrebbe essere alcuni lo hanno asserito per esempio Roger Penrose famoso scienziato o John Searle famoso filosofo forse forse sull'indeterminismo possiamo fare affidamento forse anche nel cervello ci sono riverbera in qualche modo magari per meccanismi di complessità l'indeterminismo quantistico questa è una tesi discussa il problema è che anche questa tesi non basta a salvare l'idea in sé almeno a salvare l'idea di libero arbitrio perché prima ho detto che sono due le condizioni della libertà il fatto che che a noi si aprano futuri diversi e questo si può dare se l'indeterminismo è vero perché non è determinato quale futuro si attualizzerà ma ho anche detto un'altra cosa ho detto che dobbiamo noi vogliamo pensare che siamo noi che controlliamo quali dei futuri possibili si attualizzerà ora se è vero l'indeterminismo significa che gli eventi futuri quando sono indeterminati non sono determinati da nulla e quindi neanche da noi se è così noi non possiamo incidere su ciò che accadrà perché ciò che accadrà è totalmente indeterminato quindi se è vero l'indeterminismo si perde la possibilità dei futuri aperti che sembra essenziale per il libero arbitrio se è vero l'indeterminismo si perde la possibilità di controllare quale dei futuri possibili si attualizzerà quindi molti concludono ecco questo è il problema in verità non sono così semplici le cose perché quello che sembra un problema è tutta una serie di problemi annessi connessi variamente connessi variamente legati il primo problema è al di là delle apparenze si può pensare come molti hanno teorizzato che il libero arbitrio sia compatibile con il determinismo c'è tutta una tradizione che include appunto Locke e Hume che ho già menzionato o Leibniz di cui il professor Mugnai è uno dei massimi esperti internazionali questa è una possibilità quindi prima domanda è vero come molti sostengono che al di là delle apparenze il libero arbitrio è compatibile con il determinismo oppure come sostengono altri per fare un esempio canonico ho già detto di Searle di Penrose ma per esempio Kant è vero che richiede in qualche modo l'indeterminismo altra domanda a noi il libero arbitrio interessa per molte ragioni già elencate dal professor Mugnai per esempio perché sembra essere condizione di possibilità della responsabilità morale la gran maggioranza dei filosofi anche che sul tema hanno visioni molto diverse tipo Kant e Hume è d'accordo su questo punto oggi qualcuno ha messo in questione questa relazione cioè ha dubitato che per dirci morali dobbiamo in qualche modo avere il libero arbitrio quindi questo è un altro punto controverso molto importante e poi ci sono questioni più queste sono questioni concettuali ci sono delle questioni empiriche assumendo che ci sia il libero arbitrio quando è che siamo liberi in quali occasioni su questo le scienze cognitive vanno dicendo cose molto importanti e come agiamo quando agiamo liberamente quali sono i meccanismi neurofisiologici psicologici con cui agiamo quando agiamo liberamente o intenzionalmente e poi sono altre questioni che complicano ulteriormente il dibattito e una di queste di cui immagino parlerà il professor Pietrini Pietrini ed è la questione della rilevanza che gli studi contemporanei sul libero arbitrio che sono multidisciplinari per definizione quindi neurofisiologia psichiatria genetica filosofia nel senso della teoria delle azioni psicologia convergono per studiare la questione della volizione intenzionale o meno la capacità di intendere di volere le sue alterazioni ecco come questi studi influenzino dovrebbero influenzare in parte già influenzano il diritto sono tutte questioni connesse non è detto che su tutte saremo in grado di trovare risposte risolutive ma possiamo pensare che possiamo fare dei progressi cognitivi su molte di esse quindi è errato questo è il primo vizio capitale della discussione pensare che esista una questione del libero arbitrio la seconda è il secondo vizio capitale è questo il problema del libero arbitrio è interessante solo per i filosofi chi se ne importa io mi sento libero questo basta penso che gli altri siano liberi in verità non è così questo è già implicito in quanto ho detto io in quanto ho detto Massimo Mugnai il caso della responsabilità morale è ovvio noi non attribuiamo responsabilità morale a qualcuno a cui non attribuiamo il libero arbitrio di solito pensate a un bambino di due anni che rompe un prezioso vaso cinese apparentemente lo fa intenzionalmente ma in verità non ha le coordinate per capire che quella cosa non si fa non ha veramente controllo razionale su ciò che sta facendo viceversa persone con patologie particolari per esempio i cleptomani sono generalmente scusati per almeno parte in parte scusati per le loro azioni quindi sia la responsabilità morale sia la responsabilità penale sono fortemente cambiano fortemente i nostri giudizi a seconda che sia eserciti il libero arbitrio o meno quindi a forziori a seconda che vi sia il libero arbitrio o meno quindi non è una questione che possa interessare soltanto i filosofi fate permettere di una citazione da questo ve lo dico pertanto se non lo indovinate poi tocca pagare il pranzo per questo è impossibile non indovinare Dante a purgatorio qui definisce il nesso tra libero arbitrio e responsabilità morale Dante scrive lo cielo i vostri movimenti inizia non dico tutti ma posto chi il dica l'ume vedato a bene e malizia e libero voler che se fatica nelle prime battaglie col ciel dura poi vince tutto se ben si notrica cosa vuole dire esiste la necessità naturale lui dice i movimenti dei cieli naturalmente sappiamo tutti nella cosmologia cosmologia dantesca questo è conciliato con la volontà divina quindi esiste una predeterminazione divina che forse non necessita tutti qui Dante è un po' ambiguo perché dice non dico che inizia tutti i movimenti non lo dico però se lo dicessi e poi va avanti perché qui c'è un problema grosso il problema fondamentale della teologia cattolica mentre i protestanti come sapete tendono più verso la negazione del libero arbitrio almeno tradizionalmente la teologia cattolica ha questo problema cioè se Dio determina tutto dov'è il libero arbitrio allora Gante c'ha questa via scappatoio non determina tutto ma anche se lo determinasse ci lascerebbe un po' di libero arbitrio che a rigore è un po' una contraddizione ma quello che interessa è dire che il libero volere seppure fatica nelle prime battaglie col ciel cioè con la necessità poi vince tutto sebbene si nutrica cioè se si obbedisce alla moralità se si obbedisce al lume della ragione dice lui lume v'è dato di bene e malizia la capacità di discernere il bene e dal male allora il libero arbitrio è usato bene quindi Dante insiste sul nesso concettuale tra libero arbitrio e responsabilità morale bene allora il primo punto il primo vizio capitale era l'idea che è un problema unico non è così non è un problema univoco il secondo era che interessa solo i filosofi assolutamente non è così il terzo punto è una questo ho trovato questa citazione in un ottimo filosofo Roderick Cisselman che ha scritto contributi importanti sul tema però ha detto una cosa secondo me errata che poi viene spesso ripetuta ossia l'idea sì va bene ma qualunque posizione si prenda oggi sul libero arbitrio in verità qualcuno l'ha già presa in passato non c'è un vero progresso su questo tema ecco io questo non lo credo negli ultimi 30 anni in particolare soprattutto in ambito angloamericano ormai anche da noi soprattutto sia per diciamo così sia in campo di filosofia pura quindi analisi concettuale sia nel campo all'intersezione tra scienze cognitive neuroscienza genetica e filosofia ci sono stati notevoli progressi cognitivi sul tema intatto si sono rigorizzati fortemente i termini in gioco in secondo luogo si sono date tassonomie molto rigorose delle posizioni che si possono prendere sul tema sono state definite allora permettetevi dare un paio di ismi come fanno i filosofi cioè posizioni che racchiudono tutta una serie di opinioni sul tema del libero arbitrio in parte vi ho già accennato il primo è il cosiddetto compatibilismo ossia l'idea per cui il libero arbitrio al di là delle apparenze è compatibile con la determinazione naturale con il determinismo che significa come può essere che se uno è determinato è libero beh immaginiamo questa è l'idea voi andate al ristorante oggi vi chiedono volete il risotto o la pasta e voi pensate e dite volete la pasta ora se è vero il determinismo voi solo quello potevate dire che volevate la pasta e tuttavia voi la volevate la pasta vi portano la pasta allora un compatibilista come Hume verrebbe e direbbe scusa tu volevi la pasta hai avuto la pasta che altro vuoi dalla libertà qui si innesta un dibattito che è cruciale in questa discussione cioè i compatibilisti dicono che non c'è altro da chiedere al libero arbitrio non si parla veramente di volontà libera dicono perché la volontà non è libera è determinata io solo la pasta posso volere ma si parla di azione libera perché l'azione qui è quella di dire voglio la pasta e mangiare la pasta questa è l'azione ed è libera non perché avessi potuto farne un'altra ma perché è quello che volevo fare cioè un'azione che è causata dalle mie evoluzioni intenzionali razionalmente eccetera quella è un'azione libera quindi secondo questa tradizione che ripeto include Locke Hume Leibniz e molti filosofi contemporanei per esempio oggi Dennett secondo questa tradizione quello che conta veramente è se siamo noi la nostra volontà pur determinata a causare le azioni o le scelte che compiamo quindi ciò che conta è questo nesso causale anche se non ho alternative questa è la posizione dei compatibilisti di contro questi si schierano i cosiddetti libertari che sono coloro i quali dicono ma no non è così anche la volontà deve essere libera Kant per esempio arrabbiandosi moltissimo con Leibniz e qui mi perdonerà il professor Mugnai un Leibnizologo di fama Leibniz disse vabbè Kant disse Leibniz rende il libero arbitrio una specie di girarrosto meccanico tu lo metti in moto e poi quello è un meccanismo che già c'era nel settecento tu lo metti in moto e quello continua da solo questa è la libertà per Leibniz una specie di meccanismo Kant dice assolutamente no la libertà richiede la volontà libera non determinata in nessun modo e per questo come sanno molti Kant non può trovare questa libertà nel mondo dei fenomeni non può che situarla nel mondo dei no umeni altri sono più ottimisti cercano di mettere questa l'indeterminismo necessario per esempio negli eventi cerebrali tipo Penrose insomma in qualche parte però i libertari dicono necessita che il determinismo naturale si rompa che ci siano delle lacune perché accada che ci sia la libertà che si possa esercitare il libero arbitrio quindi questa è la grande distinzione tra coloro i quali credono che il libero arbitrio esista chi sostanzialmente dice che il libero arbitrio è compatibile con il determinismo e chi dice che al contrario richiede l'indeterminismo oggi queste sono posizioni tradizionali ma sono state in qualche modo rigorizzate soprattutto sono stati offerti argomenti oggi recentemente contro argomenti critici contro alcune di queste visioni adesso non posso entrare nel merito anche perché se no la famosa idea che i professori di filosofia non devono essere noiosi verrebbe immediatamente falsificata però sappiate che negli ultimi decenni sono stati presentati argomenti molto interessanti contro tutti questi punti di vista soprattutto negli ultimi diciamo 30 anni sono state presentate è stata presentata numerosa ampia evidenza scientifica neurofisiologica e psicologica sui meccanismi in cui il libero arbitrio assumendo che ci sia viene limitato su questo torno tra un attimo quindi questa è l'idea il vizio capitale qui era quello che dicevano ma tutto è già stato detto ce ne è uno complementare speculare quello di chi dice chi se ne importa la discussione classica finalmente adesso parliamo del libero arbitrio con strumenti nuovi diciamo interessanti finalmente il dibattito è ben avviato questo anche è un errore perché in verità è vero che si dicono molte cose nuove ma il framework cioè la struttura fondamentale del dibattito è quella classica esattamente come si discuteva nel settecento tra compatibilisti e libertari si fa così ancora oggi semplicemente le posizioni sono affinate gli argomenti a favore e contro sono più rigorosi però è vero che la struttura è la stessa dirò di più ci sono delle fortissime affinità nel dibattito contemporaneo sul libero arbitrio nel senso naturalistico cioè come possiamo essere liberi nel mondo della natura ecco il modo in cui si discute questa questione oggi è strutturalmente dal punto di vista strutturale concettuale puro ha molte analogie con il dibattito teologico cioè come possiamo essere liberi dato il fatto che Dio può prevedere ovviamente sa tutto quindi sa cosa farò e addirittura la provvidenza divina ha già organizzato il mondo secondo alcuni per cui io posso fare solo alcune cose bene la struttura dei due dibattiti delle due discussioni il libero arbitrio naturalistico e il libero arbitrio teologico è molto simile la cosa più interessante però credo per mettere in questione questo vizio capitale cioè l'idea che tutto sia nuovo è che veramente le posizioni che si difendono oggi hanno antecedenti storici rilevantissimi per esempio ho parlato del libertarismo cioè l'idea che il determinismo da qualche parte sta ecco ne menziono per esempio il famoso filosofo Duns Scoto scolastico oppure Kant ma vorrei citare un altro autore lo vorrei citare perché questa è un'acquisizione piuttosto recente diciamo che è un libro che è uscito lo scorso anno che ha dimostrato che quest'autore appartiene alla tradizione libertaria cioè situa il libero arbitrio nel ritiene che il libero arbitrio richieda l'indeterminismo quest'autore è Machiavelli la posizione di Machiavelli sul libero arbitrio è sempre stata complicata perché Machiavelli ha scritto cose che non erano molto chiare per esempio questo è un passo famoso dal diciottesimo capitolo del principe molti hanno avuto e tanno opinione che le cose del mondo siano in modo governate dalla fortuna e da Dio che gli uomini con la prudenza loro non possino correggerle anzi non vi abbino remedio alcuno a che pensando io qualche volta mi sono in qualche parte inclinato nell'opinione loro ciò ho creduto ai deterministi deterministi che includevano ovviamente i cattolici perché Dio ricordate però poi dice non di manco perché il nostro arbitrio non sia spento iudico potessero essere vero che la fortuna si arbitra della metà delle azioni nostre ma che Eziam lei ne lascia governare l'altra metà oppresso circa a noi cioè la fortuna o Dio questa india che va discussa come mai mette fortuna e Dio insieme di Machiavelli questa è una questione a parte però in generale il determinismo naturale non è mai completo è solo metà delle nostre azioni per l'altra metà siamo liberi ora per un autore che comunque cerca in qualche modo di mostrarsi ufficialmente compatibile con la tradizione cattolica da dove viene questo indeterminismo questo non si è mai capito al punto che alcuni hanno detto che non è vero per esempio Maurizio Viroli un autore importante italiano ha scritto un libro che si chiama Machiavelli's God lo scorso anno per Princeton University Press e ha detto no guardate Machiavelli in verità era un determinista era un cattolico ortodosso nel senso che riteneva che Dio prevedesse tutto che non ci fosse vera contingenza certo c'è libero arbitro ma nel senso che Dio sa cosa faremo eccetera altri hanno detto addirittura hanno scritto che in verità Machiavelli credeva nell'astrologia c'è un articolo importante anche che però diceva guardate che il vero moderno era Savonarola tra i due contemporaneo perché Savonarola non credeva all'astrologia e Machiavelli sì non è vero nulla ormai è chiaro che soprattutto da questo libro dello scorso anno un libro di Alison Brown pubblicato da Harvard University Press che si chiama The Return of Lucretius il ritorno di Lucrezio che Machiavelli da questo punto di vista apparteneva a una tradizione filosofica formidabile e maledetta quella dell'epicureismo da giovane Machiavelli sapete l'epicureismo era sostanzialmente l'idea che questo è un passo di Lucrezio il massimo epicureo quello di cui abbiamo il dererunnatura che è un manifesto dell'epicureismo rispetto alla volontà libera diceva fatis avulsa voluntas la volontà che avulsa dai fati che è indipendente dalla necessità naturale perché è indipendente molti lo sanno perché secondo Epicuro e Lucrezio e Machiavelli nel mondo il mondo è fatto di atomi che obbediscono a leggi rigolose naturali però c'è il fenomeno del clinament allora gli atomi deviano imprevedibilmente dalla loro traiettoria necessitata e questo fa sì che si innestino meccanismi di contingenza si può innestare lì dice Epicuro dice Lucrezio dice Machiavelli il libero arbitrio ora questo sembrano tutte teorie così se non si trova evidenza testuale bene già 50 anni fa un famoso studioso italiano Sergio Bertelli scoprì un manoscritto nella biblioteca vaticana di mano di Machiavelli che aveva copiato tutto il dererum natura di Lucrezio e aveva preso appunti in molte parti compresa quella su questo meccanismo del clinamen scrivendo appunti suoi di mano sua sul libero arbitrio ora la tradizione lucreziano era maledetta perché soprattutto come sapete era sostanzialmente percepita come antireligiosa lucrezio riteneva come epicuro non erano atei ma pensavano che gli dèi non si interessassero alla natura la natura fosse autonoma dalle divinità e questo era intollerabile quindi la traduzione epicura è sempre stata nascosta però ebbe un momento di fama di ritorno di fiamma a Firenze quando si riscoprì nel 1417 credo il manoscritto del dererum natura ci fu una fortuna crescente ci furono autori tipo Marsilio Ficino tipo il cancelliere della Repubblica Florentina Bartolomeo Scala che era amico del padre Machiavelli tipo Marcello Adriani che era il cancelliere della Repubblica quando Machiavelli era segretario ed era stato suo maestro bene tutti questi parlano ampiamente e difendono l'epicureismo l'epicureismo diventa la dottrina ufficiale dei repubblicani fiorentini di un gruppo fortissimo capeggiato da tra l'altro Lorenzo di Pierfrancesco De Medici cioè un Medici che aveva si era separato dal resto della famiglia era diventato repubblicano bene questi credono nell'ubero arbitrio questo il punto quindi è per Machiavelli il libero arbitrio quel 50% di libertà naturale dipende dal fatto che la natura ha degli spazi di contingenza di indeterminismo che fanno sfuggire alla legalità naturale che altrimenti sarebbe inesorabile alcune delle nostre azioni poi è a noi alla nostra razionalità al nostro arbitrio la capacità di usufruire di questi momenti è una visione appunto lucreziana epicurea e credo che questo sia uno dei passi avanti più forti più notevoli nella storiografia degli ultimi anni capire che Machiavelli appartiene a quella tradizione ma dicevo questo stavo criticando quanti dicono che la discussione contemporanea è del tutto nuova Machiavelli già aveva l'idea ben chiara dell'indeterminismo del libertarismo ma anche le altre tradizioni sono antiche il compatibilismo ripeto l'idea che il determinismo e libertà possano andare assieme questa è una visione antichissima molto abbracciata dei teologi cattolici e anche un'altra tradizione di cui ancora non ho accennato se non sullo sfondo ha antesignani antiche e questa è l'idea che la libertà il liberarpitrio sia una mera illusione oggi è molto comune ci sono libri anche scientifici o anche filosofici che dicono la libertà non esiste bene questa è una tradizione antichissima che esiste già nell'antichità negli stoici per esempio ripresa da molti autori dal famoso Pietro Pomponazzi il cui il cui l'ascito comunque è poco conosciuto ma è un grosso filosofo del rinascimento fino ad oggi dove molti o gli illuministi molti degli illuministi ma molti filosofi contemporanei e scienziati contemporanei ritengono che il liberarbitrio non esista questa però è una tradizione antica arriviamo alla quinta dei sette vizi capitali il che significa che siamo a cinque settimi della mia relazione ci avviciniamo alla fine ed è questo il vizio capitale quelli che dicono sì sì la soluzione del liberarbitrio è ovvia ce l'abbiamo come puoi negarlo ecco io non credo che questo sia un buon modo di procedere non è ovvio se c'è una cosa che è ovvia nel dibattito sul liberarbitrio è che la soluzione non è ovvia questo ed è tutto ovvio a me almeno perché non è ovvio che abbiamo la libertà io credo nell'idea del liberarbitrio ma credo che non sia affatto ovvia credo che ci siano argomenti che la mettono in questione quali sono questi argomenti beh uno l'ho detto prima l'idea che sembra proprio impossibile almeno sembra impossibile situare la libertà in un mondo che è o indeterministico o deterministico laddove come abbiamo visto il liberarbitrio collide sia col determinismo che con l'indeterminismo quindi come possiamo essere liberi nel mondo naturale se queste sono le alternative questo è un argomento ma ci sono argomenti empirici oggi contro l'idea di libertà dico brevemente di un esperimento neurofisiologico molto interessante che è stato pubblicato da Nature un paio di anni fa in un articolo che si chiama Unconscious Determinance of Free Decisions in the Human Brain l'idea degli autori qui è che l'idea sostanzialmente l'idea di libertà sia illusoria perché loro hanno asserito con una base evidenziale importante di poter in qualche modo prevedere le decisioni che i soggetti prenderanno da 7 a 10 secondi prima che i soggetti ne diventino consapevoli l'esperimento è questo un soggetto ha di fronte a sé due pulsanti destro e sinistro e gli si chiede rilassati nel prossimo minuto quando sentirai l'impulso a farlo premi tasto destro o sinistro ma in quel momento guarda quell'orologione che c'è davanti così capiamo quando hai preso la decisione bene guardando alle immagini alle neuroimmagini del soggetto si è scoperto analizzando l'attività cerebrale particolarmente nella corteccia prefrontale parietale si è scoperto che ci sono dei segnali neurologici tali che si può prevedere dicono questi autori in anticipo quale scelta da 7 a 10 secondi prima quale scelta il soggetto compirà beh ma se si può prevedere cioè quindi se lo scienziato può sapere in anticipo cosa noi sceglieremo un problema liber arbitrio lo crea almeno un problema grosso però lo crea insomma almeno un problema non so se è una soluzione del dilemma dubito però il problema lo crea e questo dimostra che non è ovvio questo e molti altri esperimenti analoghi non è ovvio che siamo liberi e però qui veniamo al al penultimo dei vizi capitali quelli che dicono ah beh beh allora il liber arbitrio non esiste lo prendono per ovvio proprio alla base di per esempio usando un esperimento come quello che ho appena citato come si può pensare alla libertà se lo scienziato può sapere prima di me dieci secondi che cosa sceglierò bene bisogna dire che una conclusione di questo tipo è altrettanto inadeguata come la precedente quella che diceva no siamo liberi sicuramente torniamo un attimo sul nostro esperimento ripeto il soggetto al soggetto si chiede di rilassarsi e poi nel minuto successivo quando sente l'impulso a farlo premere il tasto a destra o a sinistra guardando quando prende questa decisione quando sente l'impulso quella è la decisione e lui preme tutto questo esperimento ruota e altri analoghi a cominciare da quelli famosissimi di Libet ruotano intorno a un punto cruciale l'idea è che la presa di decisione libera apparentemente coincide con sentire l'impulso a compiere una certa azione d'accordo quindi l'idea è che quella che a noi sembra la libertà soggettiva cioè io soggettivamente mi sento libero di scegliere in verità oggettivamente non esiste non ha un corrispettivo oggettivo non c'è niente nel mondo che corrisponda alla mia idea che io decido scelgo liberamente quindi all'idea soggettiva di libertà non c'è nessun corrispondente oggettivo questa è l'idea in verità io credo che questo esperimento non dimostri affatto tutto ciò in primo luogo ripeto l'idea qual è? l'idea è l'esperimento si basa sul fatto di premere tasto destro o sinistro quando si sente l'impulso a farlo quindi c'è un'identificazione tra sentire l'impulso a premere e la decisione libera ora però se noi pensiamo un attimo ci accorgiamo subito che non è affatto condizione necessaria di una decisione libera avvertire un impulso a compierla molto spesso io per esempio quando parlo adesso soggettivamente penso di essere libero ma non sento nessun impulso a dire ciò che dico lo dico non è che voi quando vi chiedono volete la pasta o il risotto state lì e poi a un certo punto sentite l'impulso risotto non si sente l'impulso si decide quindi non è condizione necessaria delle decisioni libere il sentire avvertire l'impulso ma non è neanche non è neanche condizione sufficiente spesso e volentieri noi avvertiamo l'impulso a fare cose per esempio a starnutire o a sbadigliare che non designano affatto una decisione libera non anticipano affatto una decisione libera non connotano una decisione libera quindi avvertire l'impulso a compiere una determinata scelta e l'azione conseguente non è né condizione necessaria né condizione sufficiente di una decisione libera non ha a che fare direttamente con la libertà ci sono casi molto rari in cui ciò può accadere io sento l'impulso a fare qualcosa e poi lo faccio credo liberamente ma è molto raro nella maggior parte dei casi le nostre decisioni quelle importanti non sono di questo tipo non avvertiamo impulsi c'è di più ho detto che questo articolo si intitola unconscious determinants of free decisions in the human brain io penso che questa decisione di premere tasto destro o sinistro decisione non è neanche non solo non è libera perché c'è la questione degli impulsi ma non è neanche una vera decisione non è una decisione genuina cos'è una decisione questo lo sa sia il senso comune sia la teoria delle decisioni una decisione è una scelta che facciamo in situazione di incertezza quando ci si aprono alternative possibili mettendo in gerarchia in ranking dal nostro punto di vista i vari risultati che potremmo ottenere le preferenze noi mettiamo un ranking di tutte le preferenze che abbiamo a fare un'azione o l'altra pasta ho riso ma pasta l'ho avuta ieri riso però qui non lo fanno tanto bene insomma facciamo tutti i ranking e poi decidiamo voi mi dovete dire che tipo di ranking c'è quando ti dicono di premere destra o sinistra nessun interesse che nostro è in gioco qua niente che tocchi la nostra vita non è una decisione genuina non facciamo nessun ranking destra o sinistra non sorprende che il risultato sia come dire un automatismo prevedibile perché non mette in gioco niente non è neanche una vera decisione non sto dicendo che questo esperimento è irrilevante perché dice qualcosa sulla coscienza dice qualcosa importante che già si sa da Freud in poi ma soprattutto le scienze cognitive la coscienza è spesso opaca a se stessa in questo caso per esempio io mi sbaglio nel pensare di decidere in quel momento qualcosa avviene nel senso dell'inconscio neurale che fa sì che io decida però non è questa questione dirimente per la questione del libero arbitrio non è per il fatto che io sia possa errare sul sul momento in cui prendo la decisione in questo caso qua che dimostri che non c'è il libero arbitrio in generale poi il fatto che io non sia cosciente di una scelta che faccio non è affatto non comporta affatto che quella scelta non sia libera per esempio io adesso mettiamo il che è pure vero che io voglio bere il bicchiere d'acqua mentre bevo il professor Pietrini che vedo pronto all'azione mi fa una domanda a tradimento e io mi distraggo e comincio a pensare alla risposta intanto bevo rispondo e poi mi chiedo ma ho bevuto voi dite certo che hai bevuto voi lo sapete meglio di me io ho bevuto quando me lo dite però non penso che la scelta di bere sia stata involontaria o non l'ho libera lo volevo fare l'ho fatto non era consapevole la scelta però l'azione compiuta a me sembra libera ciò dimostra che in certi casi anche se la volontà è opaca tuttavia la scelta che ne discende e l'azione che ne discende possono essere considerate libere quindi esperimenti che provano l'opacità della coscienza a se stessa non necessariamente hanno influenza per il libero arbitrio molto si potrebbe discutere su esperimenti di questo tipo però la conclusione la morale che voglio trarre questo è il sesto punto il sesto vizio capitale che voglio contestare è l'idea che le neuroscienze le scienze cognitivo la genetica avrebbero provato che il libero arbitrio non esiste non è così ultimo punto ultimo errore vizio capitale della discussione questo è per esempio teorizzato dal più grande linguista vivente cioè Noam Chomsky ma anche da altri autori importanti per esempio Peter Van Wagen che si è occupato allo lungo di questi temi cioè l'idea è questa ok il libero arbitrio è un problema genuino perché è un problema genuino perché noi non possiamo rinunciare a questa nozione ma non possiamo provare che è possibile non possiamo nemmeno dire che è possibile non solo che non è reale non sappiamo neanche se è possibile e perché non possiamo perché dicono la nostra specie semplicemente non è abbastanza intelligente noi non siamo abbastanza intelligenti ovviamente c'è una risposta siccome è vero che abbiamo il libero arbitrio oppure siccome è vero che ci pare che abbiamo il libero arbitrio la risposta da qualche parte sta questo o è vero o è falso da qualche parte la risposta sta ma noi non siamo intelligenti e mai saremo intelligenti abbastanza da capire quella risposta cioè siamo liberi o no? mistero loro dicono si chiamano misteriani qui anche mi piace forse un po' di patriottismo residuo anche perché i tempi qui nel nostro paese sono ostici quindi è bene tornare alle radici ciò che ha fatto l'Italia grande questo è un altro grande umanista Lorenzo Valla che scriveva ben difficile e arduo è questo problema e non so se è risolto da alcuno ma non c'è motivo per cui tu debba turbarti e confonderti anche se non lo risolverai mai è forse giusto irritarsi se non si raggiunge quello che da nessuno si vede raggiunto ecco forse non è giusto irritarsi come dice Lorenzo Valla però secondo me non è neanche giusto essere troppo pessimisti non è giusto dire che rimarrà sempre un mistero la questione del liber arbitro per due ragioni primo chi siamo noi per capire che cosa succederà se ci saranno ancora gli esseri umani tra 500 anni o tra 1000 anni poteva la più grande mente di sempre Aristotele prevedere quello che avremmo fatto noi nel 2000 la luna la comprensione del mondo subatomico poteva no non poteva prevederlo non poteva pensarlo possibile eppure l'abbiamo fatto quindi chi può dire cosa faremo nel corso dei millenni se ci saremo ma il secondo punto più concreto è che noi facciamo abbiamo dei notevoli progressi cognitivi nel comprendere alcuni degli aspetti del problema non c'è un problema nel liber arbitrio ci sono molte sotto questioni interrogate su molte di queste abbiamo fatto notevoli passi in avanti passi in avanti che si basano su una storia millenaria ed è come dire un progresso continuo di se non altro chiarificazione del problema ecco se c'è una morale da trarre è che forse su questo tema non si può essere troppo pessimisti grazie grazie di nuovo al professor De Caro allora ricordo che il convegno riprende alle ore 15 e riprenderà con una discussione prima della relazione del professor De Caro e poi si svolgeranno nell'ordine le relazioni della professoressa Roschis di Pietro Pietrini e di Carla Bagnoli grazie Giovanni Gentile non me ne vorrà se ho tolto la sua la sua toga ma dovrebbe essere un uomo molto freddoloso credo visto quanto era pesante vi ringrazio molto per aver partecipato a questa a questa prima parte della giornata sareste tutti graditissimi ospiti al piano di sopra spero possiate fermarvi ci possiamo vedere in sala degli stemmi per mangiare insieme grazie ancora grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti